Buongiorno viaggisori, buonasera sono le 7.42, si è 19.42, dove siamo stasera? Notizia, notizia, stasera abbiamo strafatto, siamo davanti a un vulcano, però c'è una particolarità, questo è attivo, infatti quella nera che vedete che scorre qua è lava fumante, in certi punti si vede anche il fuoco, ma con il cellulare chiaramente non si vede, la vediamo noi a occhio nudo, laggiù finisce, continua, continua, si ferma a un certo punto laggiù in fondo e laggiù il mare, e sullo sfondo la verso destra il sole che praticamente non trompa, ma mai eh, ma proprio mai, ma insomma, e quindi viviamo in questo stato di pienessere assoluto, come sempre giù, che meraviglia, ci sono gli elicotteri, c'è un po' insomma di protezione civile in giro perché il vulcano è attivo, quindi ci sono tutte le... Non è passivo? No, no, è attivo. Qua ci sono varie persone che arrivano in barbolo. Sì, si fa una bella salita per arrivare, non è che ci serve. Ce la devi guadagnare, ce la devi guadagnare. E poi c'è un bel freschino in cima. Lo spettacolo è fantastico. Va bene, hanno visto tutto? Ciao! Ciao!